E ciao a tutti ragazzi Allora in questo momento sto facendo questo video Veloce veloce per avvisarvi che Se volete siamo In live nel link appunto Che troverete qui sotto in descrizione Se volete venire a fare un salto Volete non lo so fare la cacca pupù Potete benissimo venire Trovate il link qua sotto E nulla cliccatelo e venite a guardare live Se avete da fare sticcaci Cacca pupù Quindi bastate live cliccatelo E basta E chiudi chiudi salve